e dovrebbero essere ufficiali i risultati al femminile della farfalla juniores e allora un occhio alle otto finaliste di specialità Francesca Denardi miglior tempo 1 0 4 98 con lei in finale Viola Magoga Martina Pinarello Sara Maragno Federica Avonna Brigitta Boifava Matilde Matilda Rodigari Giulia Giacomazzi che si qualifica con 1 0 7 e 11 per la seconda batteria junior maschi Nicola Zanin in 2 e Francesco San Giorgio in 3 Simone Teglia in 4 Igor Zuber in 5 Lorenzo Di Maggia in 6 Edis Fedolovic Fodolovic in 7 Bardin Idros in centro vasca con Turelli che prova a rientrare Bardin 58 92 Turelli 59 43 Grazie a tutti ieri